Giravano in auto nel cuore della notte nei pressi di un supermercato di Sansepolcro. Due quarantenni sono stati così fermati e denunciati dai carabinieri. Entrambi infatti non avrebbero saputo fornire idonee giustificazioni sulla loro presenza in quel luogo, motivo per il quale i militari hanno proceduto anche alla perquisizione dell'auto, trovando occultata sotto il tappetino del conducente una patente di guida falsa. Uno dei due, domiciliato in territorio umbro, è inoltre risultato inottemperante al foglio di via obbligatorio. I due dovranno adesso rispondere dei reati di falsità materiale, violazione degli obblighi derivanti dal foglio di via, ricettazione, guida con patente revocata e per inosservanza di un provvedimento dell'autorità con riferimento all'emergenza coronavirus. Proseguono infatti senza sosta i controlli, succhi e fuori senza motivo e continuano anche a fiocare le denunce penali. Addirittura c'è stato anche un arresto per resistenza a pubblico ufficiale. In manette è finito un ventenne di nazionalità egiziana che si è opposto ai carabinieri in piazza Guido Monaco ad Arezzo, addirittura sputandogli addosso. I controlli ovviamente interessano tutte le strade della provincia. Il dato totale raccolto dalla prefettura alla mezzanotte di giovedì è di 46 denunce per violazione dell'articolo 650 e quindi di una disposizione delle autorità. I controlli ad oggi sono stati 1029, poco meno di 300 invece le denunce totali. Tutto tranquillo infine sul fronte negozi oltre 500, quelli controllati giovedì e nessuna denuncia.